Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tele9 con il nostro TGN che apriamo con la notizia di un altro decesso sul lavoro. Un operaio di 28 anni è morto questa mattina intorno alle 9, schiacciato dal carico di una gru a Milano in via Parravicini, la zona è quella della stazione centrale. L'operaio di origini egiziane è rimasto schiacciato mentre si trovava sotto il carico al decimo piano di una struttura in costruzione. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la movimentazione di un autogru una cassaforma, un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato, si è sganciato cadendogli addosso. Sono intervenuti ovviamente i sanitari che hanno potuto però solo constatarne il decesso. Ovviamente subito sono arrivate le richieste di maggiori investimenti sulla sicurezza sul lavoro da parte di tutti i sindacati. Li ha chiesti anche a Regione Lombardia l'opposizione al Pirellone, cioè il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dicendo che bisogna immettere più capitale proprio per raggiungere questo obiettivo, quello della maggior sicurezza sul lavoro. A questo dibattito si è aggiunto a caldo praticamente subito questa mattina, si è aggiunta la voce del primo cittadino di Milano, Beppe Sala, che si è espresso in questi termini. L'ennesima tragedia, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza però ovviamente evidentemente non si fa abbastanza. Va bene i protocolli, va bene tutto però certamente c'è da fare i più. Io mi ricordo quello che abbiamo fatto all'Expo non era semplicemente un protocollo, era una vigilanza continua dei lavori. Ora capisco che la complessità di cui stiamo parlando è molto più ampia, però evidentemente c'è qualcosa che non va. Il 15 dicembre sarà un altro venerdì nero per i trasporti a Milano. C'è lo sciopero che è stato riprogrammato proprio in quella data dopo la precettazione precedente del ministro Salvini. Sono a rischio trama, autobus metropolitane e il servizio di Paolo Pirovano ci racconta come dovrebbe andare questa giornata. Nuovo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto dalle sigle USB lavoro privato, Alcobaz e Cub Trasporti. Come avvenuto in questi ultimi mesi, l'agitazione è stata proclamata di venerdì e il giorno prescelto è il 15 dicembre nel bel mezzo dello shopping gratalizio. Si tratta della protesta inizialmente indetta per il 27 novembre scorso, prima che i lavoratori fossero precettati dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, che aveva ridotto l'agitazione a quattro ore. Lo sciopero del personale viaggiante di esercizio delle linee di superficie metropolitane sarà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Due le fasce di garanzia. I mezzi circoleranno da inizio servizio alle 8.45 tra le 15 e le 18. Nel resto della giornata invece si rischia lo stop. La stensione dal lavoro è stata indetta, come ricordano i sindacati, per il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il superamento dei salari d'ingresso, contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, per il blocco delle privatizzazioni, per la sicurezza sul lavoro e del servizio, per il salario minimo, per una legge sulla rappresentanza e per il blocco delle spese militari. La questione stipendi è centrale anche in questa agitazione, anche in virtù del caro vita che soprattutto a Milano rende molto complicato sopravvivere o vivere bene o quantomeno degnamente con alcuni livelli di stipendio. Il sindaco Sala ne ha parlato oggi. Io non so qual è la formula, ho visto anche nelle scorse settimane dibattiti sulla differenza di possibili retribuzioni legate appunto a diverse aree geografiche. Nessuno vuole rinnegare il percorso del passato e anche le conquiste sindacali del passato. Quello che io credo è che laddove si produca più ricchezza bisogna distribuire meglio in termini salari. E qui faccio una domanda che non è che vuole essere provocatoria ma di nuovo pragmatica. Siccome lo stanno facendo le aziende, adesso prendo un esempio a caso perché l'amministratore delegato per presentare i risultati ne ha parlato e quindi intesa, non lo deve fare il pubblico. Cioè laddove c'è più ricchezza ne devono godere anche di più i dipendenti privati ma anche quelli pubblici. Quindi una formula va trovata così, è chiaro che c'è troppa fatica qua. Ecco, ovviamente c'è all'interno di questo grande tema anche quello dell'abitare con affitti sempre più cari e la questione degli affitti brevi. Mettere un tetto a questi affitti brevi per turisti non è nella nostra intenzione. Non sarà quello che passerà nell'emendamento perché la proprietà privata è sacra e noi dobbiamo tutelare che ci siano certi requisiti e che ci sia un certo standard e che emerga il sommerso. Ma non possiamo decidere noi se un proprietario di casa da può affittare una settimana o cento giorni. Queste sono parole della ministra del turismo Daniela Santanchè a margine di un evento che si è svolto al Pirellone. A stretto giro è arrivata la replica dell'assessore alla casa del comune di Milano, Pier Francesco Maran, seguita dall'endorsement del capogruppo del PD al Pirellone, Maiorino. Sugli affitti brevi, sei mesi fa quando Santanchè ha iniziato a occuparsene, ha detto che la questione sarebbe stata risolta in poche settimane e a oggi non esiste un atto, ha detto l'esponente della Giunta Sala. La proposta che hanno fatto è oggettivamente debole nel senso che non prevede limitazioni reali. In Lombardia, in Regione Lombardia, c'è invece un'attenzione particolare al mix sociale, quindi non soltanto alla questione delle case popolari, bensì anche alla questione dell'housing sociale. E c'è un piano che è stato presentato proprio in virtù di questi obiettivi. Sentiamo l'assessore. Per fare ciò, la Regione Lombardia mette in campo un piano da 1 miliardo e 570 milioni di euro, ma soprattutto lo fa passando in tutte le fasce della socialità e quindi della necessità, quindi un'attenzione anche alle famiglie e agli spazi in cui vivono. Ci sono qualcosa come 210 milioni di euro solo per il welfare abitativo, che significa un'attenzione totale a chi vive le nostre case, agli spazi che esistono in queste case, al futuro di questa gente e anche alle attività, che non sono solo ludico-sportive, ma anche quelle culturali e sociali. Su questa nuova formazione investe moltissimo in Regione Lombardia e lo fa attraverso un cambio di passo. Oggi bisogna capire che i servizi abitativi di Regione Lombardia non sono solo per gli indigenti, per questo ci sono in comuni i servizi sociali. Cambiamo argomento, parliamo dell'influenza, perché in Lombardia cresce davvero notevolmente il numero di cittadini che sono colpiti dai virus influenzali, dai virus di stagione, bambini ovviamente, ma anche gli adulti, febbre, naso chiuso, dolori articolari e muscolari, questi i classici sintomi, ma ci sono anche degli aumenti negli ingressi ai pronto soccorso. Paolo Pirovano. Sono oltre 100.000 i lombardi colpiti dall'influenza, malati soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni, ma anche numerosi adulti che in questi giorni sono a letto con febbre, mal di gola, naso chiuso e dolori muscolari e articolari. Regione Lombardia rende noto che nell'ultima settimana si sono registrati casi di sindrome influenzali causate da rinovirus, covid e virus parainfluenzali. Negli ultimi giorni sono anche aumentati gli ingressi in pronto soccorso. Il picco verrà raggiunto probabilmente a cavallo del Natale. Ci attende una situazione che andrà un po' a peggiorare come casistica nel prossimo futuro, con l'inverno sempre più evidente, temperature rigide, momenti di contatto e di presenza all'interno di spazi chiusi di molte persone. Quindi in qualche modo dobbiamo fare i conti con quella che sarà una stagione, da un certo punto di vista impegnativa per l'influenza e anche purtroppo per il covid. Le nuove varianti si stanno facendo sentire e in qualche modo sono la causa di questa fiammata nel numero di casi. Sono 12.113 i positivi registrati negli ultimi sette giorni per un'incidenza di 121 casi ogni 100.000 abitanti. Le più colpite sono le fasce di età tra i 50 e i 60 anni e gli over 75. Si contano 724 ricoveri negli ospedali lombardi, 44 ricoverati in terapia intensiva. Quindi fondamentale importanza rilanciare l'opportunità della vaccinazione, che è un'opportunità per tutti ma una forte raccomandazione per i soggetti fragili e per i soggetti a rischio per le persone più anziane perché davvero c'è il rischio di decesso. La cronaca adesso perché nel weekend appena trascorso uno straniero in evidente stato di alterazione ha deciso di bloccare la linea gialla della metropolitana a Milano alla fermata centrale occupando i binari e stazionando lì come se nulla fosse. Per fortuna alcuni agenti di stazione sono prontamente intervenuti e hanno fatto sì che si evitasse il dramma salvando il protagonista e facendolo risalire sulla banchina prima del sopraggiungere del convoglio. Ha commentato questa vicenda il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato. Quello che è accaduto ieri nel weekend in metro alla stazione centrale è grave ma è un fenomeno che continua molto spesso. È necessario ripristinare un nucleo di vigili come c'era con la giunta Albertini e Moratti che fanno ordine e sicurezza nelle metropolitane perché questi signori mettono a rischio la loro vita ma anche quella dei passeggeri. Torniamo a parlare di quello di cui si è parlato tanto il 25 di novembre giornata internazionale appunto contro la violenza di genere quindi la violenza sulle donne. Oggi è stato trasmesso all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia un docufilm per sensibilizzare sul tema dell'educazione affettiva appunto La bellezza della rinascita è questo il titolo del cortometraggio che hanno potuto vedere ben centinaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'iniziativa è stata promossa e organizzata dall'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi. All'incontro con ragazze e ragazzi delle superiori è intervenuta anche l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini. In sala anche le curatrici di questo video, l'artista Giosquillo e la giornalista Francesca Carollo, rispettivamente fondatrice e presidente di Wall of Dolls Onlus che da nove anni si batte contro la violenza di genere. Ma sentiamo quello che ha detto l'assessore Tironi. Partendo dalla testimonianza e dall'esempio, dalla forza di queste donne, vittime di violenza che sono riuscite a riprendere in mano la loro vita, a rinascere, e a pensare anche alla bellezza della vita nonostante le difficoltà, le sofferenze, gli ostacoli che ogni giorno si sono trovate davanti. E credo che portare l'esempio e la testimonianza di queste donne, proprio a contatto con i nostri ragazzi, possa lasciare un segno, un segno indelebile. È un esercizio che inizia oggi ma che non finisce con la giornata di oggi. È un qualcosa che noi vorremmo portare in modo continuativo all'interno della scuola. La scuola non è solo istruzione, la scuola è educazione. Educare al rispetto oggi è un nostro dovere. Il Comune di Milano, torniamo in città, sta per varare il nuovo servizio di bici e monopattini in condivisione. I numeri parlano di un flop del bike sharing, mentre ai milanesi il monopattino a noleggio piace sempre di più. A Milano sale il numero degli utenti dei monopattini condivisi, diminuisce quello delle biciclette, il car sharing tiene, mentre lo scooter sharing è in ribasso. È la fotografia della mobilità a noleggio alla vigilia del varo del nuovo servizio di bici e monopattini in condivisione del Comune di Milano. Il 16 dicembre è infatti la data fissata per la partenza dall'ultima delibera di quest'estate. 6.000 saranno i monopattini in circolazione se gli ultimi passaggi amministrativi saranno superati senza intoppi. Le bici in sharing a flusso libero invece si dovrebbero fermare a quota 10.000. Il bando di Palazzo Marino prevedeva un tetto di 16.000 pezzi e 8 operatori, ma all'avviso pubblico hanno risposto soltanto 6 partecipanti e 5 sono stati selezionati. Alle biciclette a flusso libero va aggiunto il servizio fornito da Bike.me, che attualmente ha una flotta di 5.430 biciclette, di cui 1.150 ha pedalata assistita. Per quanto riguarda i monopattini, i gestori finora erano 6 con flotte da 750 monopattini a testa, per un totale di 5.250. Con il nuovo servizio la quota di monopattini in città sale a 6.000, ma ci saranno solo tre compagnie a gestire 2.000 mezzi ciascuna. Dei quattro operatori che attualmente gestiscono le bici, invece, ne rimarranno solo due, a cui se ne affiancheranno altri tre. I cinque gestori avranno flotte da 2.000 mezzi a testa. Non mollano invece gli operatori delle auto in sharing. Nel 2022 le vetture presenti a Milano erano 2.731, di cui il 36% elettrico. Attualmente la flotta totale è salita a 3.287 automobili, male lo scooter sharing da 4.370 mezzi si è passati a 1.699 unità. La Polizia di Stato ha organizzato a Milano la seconda edizione del Pranzo Solidale. Nella mensa in Piazza Sant'Ambrogio oggi a pranzo sono stati invitati circa 20 bambini e bambine in difficoltà, grazie alla collaborazione della Fondazione Geronimo Stilton, Famiglia Cristiana, Carita Sanbrosiana, Parrocchia Sacro Cuore di Ponte Lambro, Associazione Farsi Prossimo e La Fanciullezza. Accompagnati dalle canzoni del coro della questura, i bambini hanno pranzato con i poliziotti milanesi che hanno messo a loro disposizione le moto e le auto di pattuglia, oltre ad averli fatti giocare con Tommy, il labrador della sezione cinofili. Restiamo a parlare di Amici a Quattro Zampe perché un aiuto concreto ai nostri animali e ai loro padroni, soprattutto alle fasce di reddito più basse, per sostenere spese veterinarie e vaccinazioni a prezzi particolarmente calmierati, è stato previsto da un accordo siglato qualche giorno fa a Palazzo Pirelli. Nello specifico, a fronte di una spesa mensile di 14,5 euro, i sostenitori EMPA potranno usufruire di spese veterinarie e programmate a seguito di ricovero in dei ospital ambulatoriali o ricovero clinico programmato con una copertura del 100%. Copertura totale anche per le emergenze, come gli interventi dovuti a tagli, lacerazioni, torsione gastrica, rimozione dell'epidermide dall'epidermide degli insetti, avvelenamento, intervento a seguito di incidente, stradale. I dati testimoniano come in Italia l'amore per gli animali da compagnia cresca sempre di più. Sono infatti censiti 33 milioni di animali domestici, praticamente 53 ogni 100 abitanti di questi, 7 milioni e mezzo sono cani e 8 milioni sono gatti. Sentiamo a margine di questa firma le considerazioni a partire da quelle dell'assessore regionale Gianluca Comazzi. In Lombardia noi siamo stati i primi a sconfiggere il randaggismo, siamo stati la prima regione ad aiutare i volontari nella gestione delle colonie feline, siamo stati la prima regione a mettere al centro anche le cure veterinarie per quelle famiglie che oggi con le difficoltà che vivono fanno fatica a curare i propri animali domestici. Finalmente con questa iniziativa, con una mutua, è possibile garantire la salute che è un diritto fondamentale per tutti quanti, anche ad animali, anche a randaggi. Quindi attraverso questa mutua finalmente tutti gli animali avranno diritto a essere curati e accuditi. L'arcivescovo, come è sempre accaduto nelle scorse domeniche dell'Avvento Ambrosiano, ha celebrato in Duomo la quinta domenica, presiedendo i Vespri Solenni conclusi con l'adorazione e la benedizione eucaristica. Il servizio è di Anna Maria Braccini. Quinta domenica dell'Avvento Ambrosiano e quinta intervista al profeta Isaia dell'arcivescovo che in Duomo presiede i Vespri Solenni conclusi dall'adorazione eucaristica. E questa settimana si parla con la domanda del discepolo proprio del futuro, della possibilità di edificare la pace. Nella foresta infestata dai rovi potrà un germoglio essere il futuro. Ma il discepolo ancora chiede che il profeta possa scaldare il cuore, aprire la nostra mente. I nostri sapientoni invadono il silenzio seminando con arroganza la banalità. Chiamano intelligenza, l'astuzia, per adattarsi nell'adorare gli idoli muti. Anche perché la fortezza, e il profeta su questo non ha dubbi, abita nell'intimo dei semplici, dei miti, degli eletti. Questa parola, la parola della sapienza, è presso di te. Non devi scalare le montagne, non devi attraversare gli abissi. Perché? Non ti lasci semplicemente accendere dalla sua luce. Chi ti ha convinto che è meglio abitare le tenebre? Che cos'è, infatti, il timore del Signore, se non questo? Ecco, io vedo il germoglio, il principio di un mondo nuovo. Vi ricordo, dopo questo telegiornale, la striscia quotidiana alla Chiesa nella città oggi, a cura di Anna Maria Braccini, che questa sera propone un approfondimento della celebrazione in Duomo. Domani, però, l'Arcivesco di Milano incontrerà gli operatori della giustizia. Infatti, nell'aula della Corte d'Assise d'Appello del Palazzo di Giustizia, Monsignor Delpini interverrà a un incontro rivolto in particolare ad avvocati e magistrati, sia giudici che pubblici ministeri, che avranno la possibilità di raccontare la propria esperienza e riflettere sulle problematiche delle attività che svolgono nel loro quotidiano, per poi, ovviamente, ascoltare le parole dell'Arcivescovo. Era l'ultima notizia di questo nostro telegiornale. telegiornale, dopo di noi, l'abbiamo già detto, la Chiesa nella Città oggi, prima le previsioni del tempo, poi la Chiesa nella Città oggi, poi, ovviamente, lo sport, come ogni lunedì, prima con le notizie sportive con Luciano Rindone, poi con Varsport, l'approfondimento comprensivo di Moviola, di quanto accaduto nel weekend del calcio nostrano, con Michele Marchetti, in conduzione. Quindi, non cambiate canale, restate con noi, su Telenova. Grazie. 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 Grazie.